Salve amici, parliamo di esobiologia, cioè praticamente quella disciplina che si interessa della vita al di fuori del nostro pianeta. E volevo segnalarvi un libro, Uno strano silenzio, è il titolo, e l'autore è Paul Davis, che non è un romanziere, ma è un fisico teorico, un cosmologo, un astrobiologo e anche un divulgatore a livello mondiale. Paul Davis in questo piccolo libro fa un po' il punto, diciamo, su quello che è oggi gli studi sulla vita intelligente al di fuori del nostro pianeta. Che cosa dice? In pratica lui fa questo tipo di ipotesi, prendendo come assunto che la vita è indispensabile, e fondamentale, ineluttabile, lui pensa che potrebbe essersi sviluppata più di una volta sul nostro pianeta. Cioè la Terra potrebbe avere, oltre la normale vita, diciamo così, quella che noi conosciamo, di cui facciamo parte, anche una sorta di biosfera ombra la chiama, cioè delle forme di vita microscopiche completamente diverse da quelle che noi conosciamo, che hanno anche dei meccanismi biochimici altrettanto diversi e molto complicati, e fa l'esempio, infatti, di un batterio che organica l'arsenico. Stesso Paul Davis aveva già pubblicato su Science, diverso tempo fa, l'esistenza di questi batteri, che hanno suscitato un grande clamore nella comunità scientifica. Paul Davis fa anche parte del SETI, questo organo di ricerca della vita extraterrestre attraverso dei segnali elettromagnetici, ma lui va oltre perché dice che delle intelligenze extraterrestri molto evolute potrebbero aver completamente abbandonato le comunicazioni radio. Infatti già noi sulla Terra pian piano ci stiamo indirizzando verso delle autostrade informatiche nelle reti ad alta velocità e quindi probabilmente fra qualche decina d'anni noi abbandoneremo le comunicazioni radio, per cui la Terra, vista dallo spazio, ascoltata dallo spazio da dei radiotelescopi, risulterà essere silenziosa e quindi si potrebbe immaginare che non ci sia vita sulla Terra. Bene, lui pensa che queste forme di vita intelligenti nell'universo possono aver percorso la stessa strada e per cui aver spento ogni tipo di comunicazione radio pur continuando la propria evoluzione. Ma Paul Davis va anche oltre ed è convinto che l'intelligenza si sia sviluppata nel cosmo integrando biologia con le macchine, quindi una sorta di uomo-macchina che naturalmente avrebbe uno scenario completamente diverso da quello che noi potremmo immaginare, per cui nei confronti di queste intelligenze biomeccaniche noi non avremmo nessun tipo di relazione, non potremmo neppure comunicare, perché che cosa avremmo da dire con questi tipi di organismi tanto evoluti da essere riusciti a integrarsi, a formare una sorta di rete di cervelli che copre un'intera superficie di un pianeta. Infine, nella parte finale del libro, diciamo che Paul Davis si mostra piuttosto scettico sul fatto che esistano delle intelligenze nell'universo. È probabile, secondo lui, che il nostro pianeta sia il solo dove la materia organica sia riuscita ad organizzarsi in maniera tale fino ad avere la coscienza, fino a generare appunto degli organismi pensanti come siamo noi. Queste conclusioni dovrebbero poi portarci a pensare che siamo molto importanti e quindi a questo punto sarebbe bene che noi tentassimo costantemente di proteggere il nostro pianeta invece di metterlo continuamente in pericolo. Gli argomenti di esobiologia sempre più spinti, sempre più intriganti, con queste menti interessanti che ci danno delle soluzioni sempre diverse, che girano intorno a un argomento che è quello che vuole vedere se noi siamo davvero soli in questo immenso universo. Io ricordo che in passato ad occuparsi di questi argomenti erano soprattutto romanzieri, erano soprattutto persone che non avevano niente a che vedere con la scienza, invece col passare del tempo sempre più scienziati di alto livello come Paul Davis, ma ricordiamoci anche di Stephen Hawking ed altri, si interessano a questi argomenti quindi non sono delle cose completamente campatinarie. Certo niente a che vedere questo tipo di studi con gli UFO, con gli ovni, con queste macchine volanti non ben identificate che potrebbero essere di origine terrestre, potrebbero essere di origine extraterrestre, questo forse non lo sapremo mai e che da oltre 60 anni ci vogliono sulle teste e che noi non riusciamo mai a identificare. Sono argomenti molto importanti, supportati anche da studi altrettanto importanti, per cui leggete, per chi è interessato a questo tipo di argomento, uno strano silenzio di Paul Davis. Grazie, alla prossima.